È stata una partita molto difficile contro una squadra ben organizzata, in salute nelle ultime partite. Siamo stati bravi a tenere duro, a cercare di mettere in difficoltà e alla fine a vincere la partita. Non abbiamo mollato sino alla fine, siamo rimasti compatti, corti, in campo. Abbiamo sfruttato soprattutto nel secondo tempo gli spazi che loro ci concedevano e alla fine è arrivato il gol su punizione che è valso i tre punti. Ho pensato che potevo fare gol, che poteva essere un pallone decisivo, lo è stato e sono felice per tutti noi, per la squadra, per la società, per i nostri tifosi. Ci alleniamo tutti i giorni con i miei compagni per cercare di fare gol su punizione. Sono contento che ho fatto gol e sia servito per i tre punti, questo è molto importante. Il suo obiettivo è mercoledì, dobbiamo guardare partita per partita perché tutti sono difficili, ognuna è diversa. Quindi ragioniamo una per una e vedremo poi la fine dell'elettorario. Ultimamente secondo me abbiamo incontrato squadre forti, ma secondo me la Cremonese è la squadra più forte che abbiamo incontrato. Lo sta dimostrando anche oggi e durante il campionato, essendo tra le prime classifiche. Il gol lo dedico alla mia famiglia, tutta quanta, mia moglie e soprattutto anche ai nostri tifosi che oggi sono venuti qui in massa a seguirci e ci sono stati vicini dal primo all'ultimo minuto.